Beni per circa 6 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Napoli ad un imprenditore di Le Casertano, ritenuto legato alla fazione zagaria del clan dei Casalesi, condannato per associazione di tipo mafioso. Per conto del clan, secondo l'autorità giudiziaria, avrebbe gestito il controllo degli appalti con particolare riferimento a quelli relativi all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 100 kg di sigarette in due box auto, tutte senza i sigilli del monopolio di Stato. Questa la scoperta dei carabinieri della sezione di Marano di Napoli della tenenza di Melito. A finire in manette un 29enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine. I locali perquisiti erano utilizzati dall'uomo, spiegano i carabinieri, per stoccare stecche di bionde da piazzare sul mercato nero. Il carico è stato sequestrato e il 29enne è stato arrestato, ora è ai domiciliari in attesa di giudizio. È stato accolto con un lungo applauso il nuovo capo della polizia, Vittorio Pisani, in visita alla questura di Napoli per l'intitolazione della sala riunioni della squadra mobile alla memoria del primo dirigente della polizia di Stato, Mario Bignone, grande investigatore scomparso nel 2010. Per Pisani si è trattato di un ritorno nella questura dove ha diretto la mobile dal 2004 al 2011. Parole sentite quelle del capo della polizia che ha ricordato il collega Bignone. Un ragazzo splendido, dedito al servizio, ha detto. Oggi che sono al vertice dell'amministrazione, ha aggiunto, mi dispiace non poter usufruire della sua collaborazione. Un milione in tutta Italia e lavoratori che hanno aderito allo sciopero nazionale USB, cortè e proteste da nord a sud. A Napoli meno disagi del previsto per il trasporto pubblico. Infatti servizio regolare per la linea 1 della metropolitana e per la funicolare centrale. Servizio sospeso per la funicolare di Mergellina e solo corse dirette alla funicolare di Montesanto. Pesanti disagi per gli utenti dei mezzi EAB. Il servizio di bus e tram ANM parzialmente ridotto. Via libera del Consiglio Comunale di Napoli al rendiconto 2022. Il sì è arrivato con 21 voti favorevoli e la contrarietà delle forze di centro-destra, mentre si sono assenuti i consiglieri del gruppo misto Alessandra Clemente e Toti Lange. Poi la compattezza della maggioranza dell'aula di Via Verdi si è sfaldata e la seduta è stata sciolta per mancanza di numero legale. E del pacchetto Tari, la tassa sui rifiuti, che comprende l'aumento delle tariffe e il nuovo regolamento, se ne parlerà il prossimo 30 maggio. 13 milioni di euro per il restauro del maschio angioino. L'arrivo delle risorse è stato annunciato dal Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che tramite la Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paisaggio e la Direzione Generale Musei ha stanziato la cifra molto importante, che servirà all'ammodernamento e al restyling del castello e che riguarderà l'arco trionfale, la messa in sicurezza della struttura angioina e la rimozione delle barriere. Fondi che però potrebbero non essere sufficienti per mettere a sistema le enormi potenzialità del maschio angioino, turri comprese, diventato una delle mete preferite dai turisti a livello nazionale. Non c'è più tempo da perdere. La Galleria Umberto va riqualificata e non solo dal punto di vista architettonico. Non può più essere un campetto di calcio, un ricovero per senza tetto o, peggio ancora, un ring tra bandi rivali, come la cronaca ci racconta sempre più spesso. È per questo che l'altro giorno si è riunito un nuovo vertice in prefettura, una riunione di natura tecnica per pianificare gli interventi tanto attesi sulla galleria, liberata in gran parte dentro e fuori dalle impalcature per il restauro, che ha lasciato un inspiegabile patchwork di colori. Continua Palazzo Reale di Napoli la tre giorni di incontri e dibattiti per condividere, socializzare e diffondere le buone prassi emerse nel progetto Orienta Life, la scuola orienta per la vita. L'evento è organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dall'Assessorato alla Scuola della Regione Campania, da Ampal Servizi, da Confindustria Campania e da Inail Campania. A partecipare dirigenti scolastici, referenti e studenti delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto, che intende valorizzare la scuola come protagonista ed interfaccia attiva fra i giovani, il mondo del lavoro e delle professioni, coinvolgendo da una parte gli studenti e dall'altra una molteplicità di attori presenti sul territorio. Tra i tanti nomi che impazzano per il dopo Spalletti adesso è il turno di Luis Enrique, un profilo straniero molto gradito a De Laurentiis che gioca con il 4-3-3. Ha proposto un calcio spettacolare e vincente con il Barcellona e ha guidato la nazionale spagnola, fine mondiale in Qatar, fino agli ottavi di finale. Ora è libero ed è un tecnico ambito che interessa ai club di Premier League e potrebbe fare gola anche al PSG. Per Luis Enrique si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l'anno vissuto alla Roma. La sua scelta potrebbe assicurare una continuità dal punto di vista tattico, sia come sistema di gioco che come filosofia di calcio basata sul dominio della partita attraverso il possesso e la riconquista rapida del pallone.